Il bianco muove e riesce a creare i presupposti per dare grossi problemi al nero, tenendo in seguito una posizione vincente. Fermate il DVD per cercare la soluzione. Il bianco ha un leggero vantaggio comunque, ma il modo utilizzato in partita è quello più energico per trovare il vantaggio. Torre per e7. L'idea di questa mossa è di eliminare il difensore del pedone d6, in quanto la presa del pedone in d6 assicura di dare problemi in seguito al re e anche una ripresa di una quantità di materiale più che sufficiente per la torre. Dopo cavallo per e7, donna per d6, il bianco si è già assicurato due pedoni e dopo re c8, donna per e7, un ulteriore pezzo. Detto che cavallo e due pedoni sono un compenso più che sufficiente per la torre, ora c'è anche il vantaggio che il re nero è esposto. Grazie. 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 Grazie.